Sta ancora dormendo, per quello non si muove. Per forza, a New York sono le 6 del mattino. Oh, sei mossa! Che state facendo? È un'ora che state a dire Oddio, sei mossa, non sei mossa, vi siete bevute 90 Red Cup. Oddio, sei mossa di nuovo. Vabbè, va. Voi avete fatto incuriosire, che è? Ci siamo collegate alla webcam di una tipa. Oh, sei svegliata. Carino, lui che le porta al caffè a letto. Dica come te che mi freghi il mio. Vabbè, che c'entra? Quello sarà il marito? O il fidanzato? Il medico di famiglia? Se gli sta facendo la visita. La Scaffè Red Cup, un lungo piacere di caffè.